Mi fa sorridere perché alla domanda di oggi di un giornalista di un'agenzia di stampa che mi ha chiesto ma voi votereste a favore dell'arresto o comunque dell'autorizzazione a procedere con fronte di Berlusconi io l'ho guardato e ho risposto ma mi prendi in giro? Perché ovviamente è una domanda retorica, nel senso che non può che essere sia la risposta visto che abbiamo sempre detto che l'immunità parlamentare è un privilegio che dobbiamo abolire. Quindi questo è scontato. Il PD, questo dovreste chiederlo al PD, è un problema loro è un problema che non ci sono mai posti come per esempio la inelegibilità di Berlusconi è da vent'anni che è sul tavolo, va semplicemente ratificata votando in giunta per elezioni e poi in assemblea per la non elegibilità di Berlusconi in quanto titolare di concessioni pubbliche. Poi chiaramente si potranno aprire tutti i profili e potranno dire no ma in realtà è titolare la figlia, il figlio non so adesso neanche qual è l'assetto societario, non importa, sta a Berlusconi dimostrarlo in un'aula di tribunale se ritiene di voler ricorrere contro questa decisione.